Domenico Pozzavivo, campione uscente di questo Giro del Trentino, oggi con i primi, con il gruppo dei migliori, a parte Siuzzu, fino a poche centinaia di metri dall'arrivo. Una salita impegnativa questa di Vetriolo, com'è stata la tua tappa? Ma è stata abbastanza buona, aveva delle buone sensazioni, sicuramente con Ibarri Viggins non è facile, poi ci siamo controllati un po', Siuzzu è andato, non ha preso il vantaggio, lui comunque è un bel corridore, è difficile chiudere. Non la conoscevo la salita, infatti avrei potuto tenere dura i 500 metri dopo il spianamento, sinceramente pensavo fosse ancora dura nel finale, però va bene così, la condizione cresce. Questo Giro del Trentino te lo giocherai fino alla fine e poi punterai ad altri traguardi che quest'anno saranno numerosi? Si, c'è una salita durissima l'ultimo giorno, quindi è ancora tutto aperto e poi penseremo soprattutto alla Liegi domenica al Giro. Una salita per Pozzavivo? Si, se sto bene posso dire la mia, non la conosco ma mi hanno detto che è durissimo, quindi speriamo bene.